Il buon comportamento è il rapporto di comunione con gli altri. Quando io mi metto in comunione con gli altri e condivido il pane del sapere, il pane della conscienza, aiuto questi a crescere e poi loro daranno a loro volta dei frutti che sono a disposizione di tutti, ecco queste cose sono un po' mancate nella religione, nel senso che per molti anni ci siamo attaccati a un discorso che sono importanti i ritmi, che sono importanti ad esempio andare alla messa domenica, è più una virtualità, però ad esempio io è una cosa che ho amato e penso che se oggi sono diventato 40 anni fa, sono diventato bai, sono diventato bai perché alla mattina quando erano questi mattini si andava alla messa, si facevano 10 minuti di lettura del rongelo. Il rongelo è un qualcosa di estremamente moderno, tuttora, adesso che riprende nel cuore la parola, la responsa maritana, la responsa di natura, i talenti, i talenti, veramente sono delle cose magnifiche e quindi, e di fatti Cristo disse, la sua parola non passerà mai, in effetti oggi Paola ce lo spiega, questa unità di organicità dei messaggeri di Dio, è come in una scuola, è come in una scuola a cui hanno insegnato di prima di natale, di seconda, di terza, di parta, di quinta, questi che hanno insegnato della storia dell'umanità che sono i messaggeri di Dio praticamente, non dobbiamo fare nessuna differenza tra di loro, perché tutti ci hanno parlato del padre, il padre è grande che mi incese, se lo ha visto, non io, e quindi ci hanno educati in questo buon comportamento, in questo rapporto dove abbiamo imparato a parlarci, e l'essere umano diventa diverso in questa relazione, ma vi rendete conto che siamo ancora l'altro giorno, quasi lo vedo, qua nel settecento, nell'ottocento, quando due persone di livello anche alto della società litigavano, andavano a finire a fare un grello la spada bianca, all'arma bianca, per vedere che c'è una ragione, questo è l'altro giorno fa, pochi giorni fa, nella storia dell'umanità, e quindi oggi siamo invece arrivati al momento in cui dobbiamo parlarci, dobbiamo parlarci non solamente tra di noi, ma dobbiamo parlarci con gli islamici, con gli islisti, il mondo è diventato piccolo, il mondo è diventato piccolo, e se cominciamo a capire che la storia dell'umanità è una storia organica, dove tutti hanno dato qualcosa, ovviamente guardate la Cina che ha parlato con la polta del tasparo, con la seta, con la polta, prendiamo gli arabi che sono andato apprendendo lo zero, i numeri, prendendo la loro volta dagli indiani, praticamente noi siamo, praticamente un'implementazione che non sappiamo tutte queste cose da dove vengono, dopo sono diventate nostre, ricordate ad esempio dei bambini lupo, ma non solo, c'è anche quello di Federico II, il nipote di Barba Rossa, aveva fatto un esperimento nel 1250 anni d'anno, praticamente lui era un uomo di grande cultura, era un uomo che sapeva 5, 6, 7 lingue già allora, e lui praticamente un bel giorno si è messo una fissa in testa, voleva sapere quale era la lingua originale dell'uomo, diceva se da un bambino non insegna niente, che lingua è parata? era un interattore, era un interattore, ha fatto requisire tutta una serie di neonati, ha dato ordine di accudirli tappetamente, dalle mangiare, però altrettanto ordine di nessuno doveva parlare con loro, perché voleva vedere quale lingua, dove è successo? Questi bambini praticamente sono morti, quindi... La comunicazione è la base? È fondamentale, è fondamentale, si è notato ad esempio che in certi... nella parte di cuoricultura, dei bambini lasciati un po' negli angoli, erano quelli che ovviamente soffrivano di più e c'era una grande mentalità, quindi l'uomo ha bisogno di interazione, allora noi ci siamo migliorati dal punto di vista biologico, però cosa succede soprattutto oggi? Abbiamo tutta una serie di input che diamo ai bambini e gli diamo... Meccanicamente... Sì, ma alla grande, dal parlare alla gestualità, per esempio non so se vi ho parlato di neurone specchio, neurone specchio anche questa è una cosa che comunque era quasi evidente fin nell'antichità, perché tu quando un bambino gli fai un... come una scimmia e ti ripete a papagallo, ma un scimmio tale fa questo, no? E praticamente noi abbiamo all'interno di noi, e in comune anche con gli animali, questi neuroni che rispecchiano un comportamento, praticamente impariamo subito, grazie a questi neuroni... Poi mi pare che sono stati scoperti qui dal professore, dal professore universitario di Piedeste, che adesso è stato spostato, eh? Questi clienti sono stati diversi da certe, comunque ormai sono basi in diversi anni... Sì, sì, dagli anni Ottanta, sì... Tutte queste cose si fanno capire proprio come è importante questa macchina che abbiamo, e oggi siamo arrivati a questo momento storico e dobbiamo essere grati a tutti i nostri predecessori per aver portato questa biologia fino a qua e anche tutta questa cultura, avendola appresa anche nei secoli, da tutti anche gli insegnanti, perché gli insegnanti principali nel passato sono sempre stati anche questi personaggi che sono stati messaggeri di Dio. Vaola dice che sono stati circa 9.000 messaggeri di Dio nel passato, di cui si è persa nella storia, sono rimasti questi 9 di cui ci siamo. Però prima, nella preistoria, sono stati molti altri, perché qualcuno ha aiutato l'uomo a mettersi sulle due macchie, sui due piedi, o chissà quanti altre cose, che noi siamo arrivati ad essere quello che siamo. Quindi questo è un altro proprio anche di riconoscenza verso i nostri contenitori, sia antichi sia... E poi, qua anche a partire da Adam e Eva, la storia della Bibbia si dice da circa 6.000 anni, no? 6.000 anni di storia, dove probabilmente Adamo è stato il primo ad avere coscienza della differenza tra bene e male. È stata una nuova creazione per l'uomo. Quindi ecco anche una nuova lettura della storia anche dei testi sacri. Sicuramente siamo stati degli uomini nuovi. È stata una nuova creazione, però possiamo leggere la storia anche in questo senso. È logico che a dei bambini piccoli, se noi eravamo dei bambini piccoli allora, perché c'è un altro concetto che è molto importante, tenendo ad esempio proprio questa... Umanità che ripercorre la stessa strada che fa un individuo. La filogenesi dell'umanità ripercorre l'uomo. E quindi noi siamo stati neonati nell'antichità. Siamo stati bambini, siamo stati più anticelli, siamo più da giro, siamo stati alimentari, siamo in parte delle medie. E oggi, come dicevo là, ci stiamo affacciando al momento della maggiore età. Allora, per quello che c'è anche questa turbolenza... Siamo adolescenti. Siamo adolescenti e ci stiamo affacciando. Questa è il frutto della comprensione che supereremo questa adolescenza. Dobbiamo concepire di essere cittadini di un unico paese che è la Terra. Allora, dice la Terra è una solo paese che non fa l'intesso dei cittadini. E' arrivato il momento dell'unità. Allora, noi possiamo arrivare all'unità perché ci accapigliamo e vediamo che alla fine non possiamo farne meno perché sennò quelli ci ammazzano con la bomba atomica o... Vediamo il discorso dell'inquinamento. Adesso ci ammazziamo da solito che inquiniamo tutto. Se non facciamo delle regole comuni e non abbiamo anche una struttura sovranazionale oltre che avere le varie strutture nazionali, regionali e locali. E' logico che l'uomo deve avere anche questa struttura di base per la famiglia. Dopo dobbiamo avere la struttura di quartiere, dobbiamo avere la struttura di regione, dello Stato. Però dobbiamo concepire che siamo un'unica verità, ma siamo tutti i cittadini, l'unica verità che è la terra. Allora, quando cominciamo da un punto di vista... Io sono andato totalmente fuori, ho preso la tangente e adesso vediamo se riesco a riorganizzare. Potete fare delle serate dove si parla proprio di questo progetto, la AI, per arrivare a un nuovo ordine mondiale. Ad esempio, questa parola, nuovo ordine mondiale, che è lo scrivo, vai, già nel 1970-1960 anni che gira questo concetto, che non è l'ordine mondiale delle multinazionali. L'uomo tira fuori di tutti i colori, che poi ha sentito questa parola e non sa come viene strutturata o come organizzare diversamente il mondo. Perché dobbiamo concepire prima di tutto che non possiamo più fare quello che ha fatto il comunismo. Unismo, ad esempio, voleva portare tutti con la camisetta grigia, io sono stato in Cina 25 anni fa, e ho fatto in tempo a vedere l'ultimità in tele di Naso, la città, la città, la città, la città, la città, la camisetta grigia, tutti i tarai, tutti i guardi. No, il concetto è unità nella bellezza della diversità. Il mondo è bello perché siamo diversi. E ognuno di noi ha dei talenti diversi ad affrire agli altri. E ognuno di noi dovrebbe poterli sviluppare al meglio. Amore per la bellezza. Amore per la gioia. Poi noi siamo stati creati per un mondo futuro di gioia. Anche questo è un concetto che forse era bisogno del passato ancora deviato. Noi siamo creati per la gioia. Ma la gioia cos'è? Prima di tutto da sviluppare il mio talento. Essere creativo, chi della musica, chi... qualsiasi altra cosa, che poi è un qualcosa che mettiamo a disposizione di tutti. Veramente si apre un nuovo mondo nella visione. Si apre... Praticamente sono i famosi nuovi cieli e nuova terra che diceva Gesù Cristo. Si apre un nuovo mondo per la comprensione umana. Praticamente, cominciando prima di tutto a capire che questo nuovo mondo lo vediamo là come una specie di progetto. E poi pian piano ci lavoriamo. Però se prima non lo portiamo anche agli altri, come si sta a lavorare? Allora, in questo concetto, ad esempio, vediamo... Ormai ho preso la tangente, e così finisco questi due tre discorsi. Vediamo tutto il discorso, ad esempio, del problema con gli islamici, che mi sento. Quando noi cominciamo a capire questo concetto di unità e progressività della comprensione, unità e progressività del paciente, unità e progressività della razza umana, cominciamo veramente ad avere amore anche per ilismo. Cominciamo ad avere amore per il buddismo. Per esempio, io ultimamente sono stato a fare conferenze bellissime sul buddismo, l'indulismo, che era questa signora che si era innamorata e si diceva che loro aspettevano. E effettivamente ogni religione ha dei valori importanti. e praticamente tutte le religione alla fine, se andiamo a vedere i loro testi, le loro tavano, l'amore per il prossimo è tutto. E quindi è logico che se cominciamo a vedere queste cose come progressive, se leggiamo anche la Bibbia, diciamo dei commenti anche un po' forti, riusciamo a capire che per un bambino, che era ancora un po' piccolino, Cristo stesso ha detto tante altre cose da dirvi, quindi crediamo che non c'è la possibilità che c'è, ed è meraviglioso che si apre una mentalità, si apre una mentalità, ad esempio, i giovani di oggi, perché sono così in crisi? Perché non hanno una prospettiva? Sono una prospettiva, io devo godere, qua è subito cosa? Uso queste sostanze per avere cosa? Le gratificazioni immediate che mi portano a rovinarmi anche, anche per delle gratificazioni future. Qua rientro un po', vediamo se ne prendo lo che sentiamo. Questa frase è quella di parlare con una bella per l'arico, che dice che l'uomo conosca se stesso e discenda ciò che lo conduce sia alla grandezza e all'umiliazione, alla gloria oppure all'unione, alla ricchezza o all'unione. Queste cose si cominciano a spiegarle a un bambino di 6-7 anni. e come i bambini vengono su oggi che sono, si dice che sono digitali, nativi digitali, diventano nativi cittadini del mondo, nativi con la comprensione della progressività della scienza e della religione. Quindi ci sono concetti che quando li metti dentro ti formano, sei come una pianta. e poi alla fine io ho messo il processo... Mi sembra che sia andato a forza. Noi siamo vicini, se si gira, poi vediamo questa... Ah, beh, no, no, questa qua. è praticamente la parabola del buon seminatore presa dal Vangelo.